Non stare così davanti a te in ginocchio. Vincenzo Crinò, 19 anni, direttamente da Barcellona Pozzo di Cotto, in provincia di Messina, è l'unico concorrente siciliano del programma condotto da Nicola Salvino, dal titolo 100% Italia su TV8. Nel corso delle diverse puntate, che andranno in onda da lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.30, il giovanissimo Crinò ha dispensato e dispenserà la Sicilia parlando dei suoi aneddoti, musica, animali, agricoltura e tanto altro, non solo came show di TV8 per Crinò, ma tanto altro ancora, l'abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Vincenzo, una grandissima esperienza, soprattutto a questa giovanissima età, cosa ci puoi dire in merito? Sì, allora, a 19 anni, credo che un'esperienza bella come questa possa essere frutto di crescita per un ragazzo come me che vuole entrare a far parte nel grande mondo dello spettacolo. Non solo il programma, ma ricordiamo che tu frequenti anche l'università. Sì, frequento l'università degli studi di Messina nel Dipartimento di Scienze Veterinarie e frequento il corso della professoressa Maria Cristina Guerrera, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. Beh, la passione per il canto nasce con tanti anni di esperienza, che già sono quattro anni che studi il canto presso la scuola degli Atmosfera Blu e stiamo lavorando ancora a fare musica in modo da far crescere un pubblico e di migliorarlo. La passione per la comicità nasce da bambino, perché praticamente ero fissato, guardavo insieme alle serie il programma Insieme, condotto da Salvo la Rosa, che è un programma catanese dove c'erano tanti comici, tra cui Littario Scalisi e Giuseppe Castiglia, che mi hanno fatto crescere anche da questo punto di vista. Per aggruppare tutte queste cose credo ci sia bisogno solamente di studio, ma anche di un po' di fantasia e creatività. Allora, il messaggio che voglio lanciare oggi ai miei coetanei è che di non abbattervi mai, chi vorrebbe intraprendere una strada come sto iniziando io, perché ancora sono agli inizi. Non abbattetevi mai, non soffermatevi sui giudizi delle persone, continuate e andate avanti, perché chi volere è potere e si può andare avanti. Dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21.30, mi potrete trovare su TV8, al panel numero 97, con i miei aneddoti sulla Sicilia, musica, canto, aneddoti personali e tanto altro ancora. Grazie a tutti.